ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato oggi è il 30 settembre 2020 come vedete sul mio computer c'è la locandina del primo scontro che c'è stato scontro dialettico ovviamente fra joe biden e donald trump che sono i due candidati alla presidenza degli stati uniti donald trump è il presidente che si candida per fare un secondo mandato mentre joe biden è il candidato dei democratici che vuole portargli via il posto ovviamente ci sono già stati vari articoli che fanno un riassunto che non è uscito bene che non è uscito male che è stato più maleducato interrompendo all'altro che ha detto più fatti che ha detto più chiacchiere io su un dibattito che è durato due ore non sto a farvi il riassunto perché per farvi una cosa ragionata come piace fare a me dovrei fare un video di otto ore e non lo guarderebbe nessuno visto che i miei video già quando durano più di dieci minuti non li guardano e non li guarda quasi nessuno pertanto mi fermerò solo su un dettaglio che fa parte però di quelle cose che vengono ripetute più e più volte quindi come sempre io dico vabbè se tutti quanti di una certa schiera sono così convinti di dire a dire questa cosa fare questa affermazione sarà vera qual è il dettaglio il dettaglio è che biden ha ripetuto più volte durante il dibattito you are a racist Donald trump è un razzista che è una cosa che la si sente dire così tante volte che lo dai quasi per scontato e io mi sono detto va bene se è un razzista voglio dire in genere voglio dire se uno è razzista fa cose razziste uno che gli piace il vino beve il vino uno che odia i neri picchia i neri o fa leggi contro i neri o dice cose particolarmente razziste quindi mi sono detto se siamo ancora in un mondo in cui i fatti contano e quindi un'affermazione deve essere supportata dei fatti troverò online un sacco di cose che mi fanno vedere quanto trump è razzista pertanto vi faccio vedere cosa ho trovato riguardo alla terribile attitudine razzista di donald j trump ok allora partiamo per esempio da trump negli anni 80 quando lui aveva questo palm beach country club ok casualmente il suo country club è stato il primo il primo ad accettare persone di colore e ebrei pensate quanto era razzista trump che nei primi anni 80 aveva un country club e lui è stato il primo in america ad accettare persone di colore e ebrei forse non gli hanno spiegato bene cos'è il razzismo andiamo a vedere magari troverò qualcos'altro allora questa è la ellis island medal of honor fra l'altro una pagina wikipedia in italiano quindi ve la potete cercare voi allora ellis island per chi non lo sa è l'isola di new york dove approdavano tutte le navi degli immigranti ok c'è questa onorificenza che viene data proprio in favore di chi nella comunità degli immigranti eccetera ha fatto cose comunque valide per la comunità qui c'è tutta la lista di quelli che hanno vinto il premio ok che nome si vede aspetta che non lo vedete bene eccolo qui sottolineato perché l'ho sottolineato io donald j trump perché lui ha preso una medaglia un'onorificenza fatta da emigranti cioè attenzione c'è scritto che le stesse persone che scelgono chi premiare sono tutti quanti persone per lo più che fanno parte di minoranze etniche quindi persone di minoranze etniche che hanno deciso di dare una medaglia al valore a un razzista non è proprio credibile soprattutto non è proprio credibile se guardate quando è stata data questa medaglia cioè con chi chi erano gli altri che hanno preso con lui la stessa medaglia allo stesso anno guardate la foto della premiazione lì ci sono Muhammad Ali adesso spero di non dovervi dire la storia di Muhammad Ali ma ve la potete leggere tranquillamente comunque è stato il primo campione nero forse il più forte di tutti i tempi quindi era un punto di riferimento di tutta la comunità nera e attenzione questo è un altro punto di riferimento enorme Rosa Parks ora magari in Italia non si sa bene chi è Rosa Parks lei è stata la prima donna in realtà non proprio la prima comunque quella che ufficialmente sarebbe la prima che ha sfidato le leggi di segregazione andandosi a sedere in un bus nei posti riservati ai bianchi sfidando ovviamente appunto come detto perché quando c'era la segregazione gli ultimi posti in fondo al bus erano per i negracci cattivi e puzzolenti secondo... non lo penso io ovviamente e dico com'era la cultura di quella volta e davanti ci sono i posti per i bianchi lei ha preso, ha trovato un posto libero davanti si è seduta davanti e ha creato scandalo, scalpore, discussioni eccetera Rosa Parks di fianco a lei c'è Donald Trump pensate quanto era razzista Donald Trump che viene premiato con questa medaglia d'onore insieme a Rosa Parks e Muhammad Ali dai adesso trovo qualcosa di razzista su Trump dai su su vediamo cosa ho trovato allora siamo sempre negli anni 80 lui va a vedere le partite di basket o in questo caso credo che questa sia una foto di uno scontro di pugilato se voi guardate la platea sono tutti bianchi gli unici due neri sono o fra Winfrey altra icona nera dagli anni 80 fino ad oggi donna di grandissimo successo e Don King chi c'è in mezzo a due neri? quel cattivissimo razzista suprematista bianco di Donald Trump tutta la platea è bianca gli unici due neri chi c'è in mezzo? Trump però lui è razzista va bene va bene Joe Biden hai ragione tu Donald Trump è razzista qui si vede Trump magari in un'altra occasione che si fa le foto con Mike Tyson picchiatore nero cioè a te pensa quanto può essere razzista uno di andare a fare le foto con un altro nero che di mestiere pesta la gente va bene sempre il razzismo ormai ragazzi dappertutto dappertutto ah questo è importante allora Jesse Jackson cioè Donald Trump se voi cercate le foto di Donald Trump con Jesse Jackson ne trovate una vagonata Jesse Jackson per chi non lo sapete è uno degli eredi politici di Martin Luther King era il capo dell'associazione di Martin Luther King a Chicago ed è stato per tutta la vita un attivista di diritti sia civili per tutti sia soprattutto dei diritti neri e il razzista Donald Trump era sempre col successore politico di sta teoria di Donald Trump che è così razzista inizia un pochino no? un pochino a essere a puzzare un pochino qui vi invito perché è molto interessante a guardarvi la pagina c'è una pagina italiana di Jesse Jackson quindi con la foto eccola qua con la foto quindi vi potete guardare la pagina molto interessante la sua storia di vita ah finalmente una vera guardate questa donna questa donna succube del razzismo di Trump sapete chi è? allora questa donna succubissima anche lei c'è una pagina in wikipedia però questa volta in inglese si chiama Lorna M. Malok è il primo generale nero e donna dei marini americani indovinate chi gli ha messo la medaglia al petto? sempre lui il peggior razzista della storia Donald J. Trump incredibile incredibile aspetta non ho finito non ho finito Ben Carson altra persona nominata da Trump prima a capo di un'organizzazione importantissima adesso vado veloce perché i video siamo già a 8 minuti John C. Taylor altra persona nominata da Trump ai vertici della Casa Bianca lo vedete di che colore non è proprio bianco non è slavato non è non arriva dalla Finlandia questo ragazzo Charles Junior Brown capo della Air Force generale con 4 stelle più figo dei generali di tutti quanti appointed quindi nominato da Donald Trump anche lui non mi sembra proprio bianchissimo ora adesso la chicca delle chicche attenzione vi do la chiccona questa qui è una sua ex morosa prima di tanti anni fa ci sono le foto cioè lui è un suprematista bianco che per due anni è stato con una ragazza di coloro te pensi qualcuno può insegnare a Donald Trump come si fa il razzista perché secondo me non l'ha capito benissimo gli manca gli manca l'abc del razzismo ha bisogno di non lo so di qualcosa che glielo spiega non so magari Salvini potrebbe chiamarlo o qualcun altro che è tutti i giorni accusato di razzismo in Italia così lo spiega ora vi potrei anche far vedere questo video di due anni fa in cui Trump condanna il suprematismo bianco il razzismo dice siamo tutti americani nati sotto la stessa bandiera e che seguiamo tutte le stesse leggi cosa che ha detto mille volte malgrado questo ieri sera ancora il commentatore e Joe Biden hanno detto ah tu non hai mai condannato il razzismo e il KKK e i suprematisti bianchi perché non lo fai stasera che è una balla perché l'ha fatto tante volte io ci ho messo tre minuti per trovare uno dei tanti video in cui Donald Trump condanna il razzismo condanna i suprematisti bianchi condanna il KKK questo per dire che cosa per dire un fatto molto semplice che la sinistra come sempre spara cazzate spara cazzate enormi allora Donald Trump non è che mi sta più simpatico di Joe Biden perché francamente non mi piace nessuno dei due se fossi in America forse non andrei neanche a votare ma non sopporto le balle non sopporto che sulla base della simpatia si riesce a convincere la gente a creare una narrativa di una persona razzista quando razzista non è questo ha passato tutti gli anni 80 in mezzo a gente nera usciva stava insieme per due anni è stato con una ragazza nera ha preso premi dai neri la sua amministrazione ha nominato un sacco di leader di capi di capi ministero di capi gabinetto neri è una balla colossale che Trump sia razzista l'unico aggancio col razzismo è quest'idea malata che ha sia la sinistra americana che la sinistra italiana per cui se sei contro l'immigrazione clandestina automaticamente sei razzista è l'unica è l'unico vero che però non è un fatto perché sono due cose completamente diverse perché una persona può essere antirazzista e anche anti-immigrazionista sono due cose diverse Joe Biden tutti i democratici americani la maggior parte dei politici democratici italiani questa cosa ancora non l'ha capita ed è per questo che sparano balle come sempre dicendo questo è un razzista se Donald Trump è un razzista è il più fallito il più scarso il più scrauso dei razzisti che io abbia mai visto nella mia vita spero che questo video sia stato utile per darvi qualche informazione in più qualche spunto di riflessione se vi è piaciuto come sempre vi invito a condividerlo se avete qualcosa da dire potete commentare la pagina facebook o il canale di youtube di scazzo moderato sempre cercando di stare nell'educazione ci vediamo al prossimo video state informati ciao